Un archivio dal valore inestimabile, adesso più facilmente accessibile e fruibile dagli studiosi, che possono così analizzare e ricostruire la storia d'Italia tramite gli atti, i documenti e i carteggi di Antonio Segni, Presidente della Repubblica dal 1962 al 64 e in precedenza Rettore dell'Università di Sassari e più volte Ministro e Presidente del Consiglio. Il lavoro di digitalizzazione, materialmente realizzato da Archisard, grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna, è stato presentato dal figlio Mario, Presidente della Fondazione Antonio Segni. Sono intervenuti, tra gli altri, anche il Rettore dell'Università Massimo Carpinelli e Salvatore Mura, assegnista di ricerca del Dipartimento di Storia e autore di una biografia di Antonio Segni, recentemente edita dal Mulino. Nel 2002 l'archivio di Antonio Segni è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna. I documenti si trovano presso il Palazzo Segni, in Viale Umberto, negli spazi del Dipartimento di Storia. Gli eredi hanno concesso l'archivio, incomodato d'uso, all'Università. Le carte riguardano soprattutto l'attività politica e istituzionale di Segni, memorie, relazioni, disegni di legge, articoli di giornale, fotografie, scambi di lettere con altri leader, capi di Stato e di governo non solo italiani, da Aldo Moro a Sandro Pertini, da Conrad Adenauer a Richard Nixon. Un archivio che conserva anche le carte familiari e professionali, manoscritti di libri e articoli pubblicati, bozze corrette, carteggi con i più autorevoli giuristi del tempo. Circa 12.000 documenti con carte che vanno dal 1863 al 1972, prevista a breve anche la fruizione online, seppure in via parziale.